Adesanya merita indubbiamente il rematch immediato con Alex Pereira, ma Poatan potrebbe avere altri piani. Sigla e ne parliamo! Bentornati amici di Fight for Your Obs, Alex Pereira scalpita, voleva assolutamente effettuare il prima possibile la prima difesa titolata della sua cintura pesimè di UFC. Una cintura che in realtà ha vinto relativamente poco tempo fa e all'inizio sembrava effettivamente che Pereira volesse prendersi un po' più di tempo prima di tornare nell'ottagono. Subito dopo UFC 281 aveva parlato con tante persone, con tanti media, in particolare era stato ospite all'MMA Hour con Ariel Luani e aveva detto di voler tornare in una timeline fra maggio e luglio, non prima di maggio ma non dopo luglio, quindi una tempistica che poteva quadrare perfettamente con l'International Fight Week che sappiamo che è la card un po' simbolo, la card un po' dell'anno, o meglio dovrebbe esserlo per la UFC. Al momento però sembra che ci sia un cambio di programma, nel senso che Pereira ha detto di voler tornare 3 aprile e maggio adesso, quindi anticipando comunque di un paio di mesi, o almeno dando come limite se vogliamo in questo momento il mese di maggio e non più quello di luglio, il mese di maggio prima addirittura era quello di partenza, a quanto pare Pereira è riuscito un attimo a recuperare dall'infortunio alla mano che aveva sostenuto durante il training camp a Desania, più in fretta del previsto, è riuscito a farsi i suoi viaggi, a prendersi un po' di tempo, adesso comunque ha aiutato Glover Teixeira nel camp, è un camp importantissimo, questo sicuramente anche mentalmente l'ha messo anche in una situazione più di focus e forse anche per questo motivo si sente già pronto per tornare. Ad aprile c'è un'altra card molto molto importante, numerata dalla UFC, che potrebbe svolgersi a Brooklyn o addirittura a New York al Madison Square Garden, proprio dove Pereira ha vinto la cintura, e Pereira appunto vorrebbe combattere o ad aprile o a maggio. Ma già al momento non c'è ancora nulla di chiaro, ad aprile sarebbe UFC 287. Questa nuova tempistica mette comunque un po' più alle strette Israel a Desania, che aveva detto per ovvie ragioni di volersi prendere un po' di tempo anche lui prima di tornare all'interno dell'ottagono, sia perché comunque doveva recuperare da un KO, KO tecnico, comunque da un match molto complicato, doveva recuperare mentalmente, e poi ricordiamo che aveva anche quelle questioni mediche, personali, che non ha svelato ma che comunque doveva un attimo curare, doveva prendersi un po' cura di se stesso. Perché però questa nuova tempistica a maggior ragione mette un po' di pepe e un po' di pressione a Israel a Desania? Perché in attesa c'è Robert Wittaker, che doveva combattere a Perth a UFC 284. Quando è saltato il match con Paolo Costa, la UFC ha proprio deciso, forse anche per mancanza di tempo per trovare un avversario in alto nei ranking, di non dargli un altro match proprio per la card australiana, ma di spostare il suo ritorno verso anche lì marzo, aprile, maggio. Quindi tempistiche potrebbero invece quadrare. Qualora a Desania non volesse mettersi fretta, cosa più che possibile e anche più che comprensibile, non ci sarebbe magari da stupirsi di un possibile subentro di Wittaker nel match titolato. Anche perché Pereira ha detto, al momento, le mie priorità sono a Desania e Wittaker, dando la priorità assoluta ad Adesania, perché ha detto, è stato un campione dominante e si merita il rematch immediato se lo vuole. Se però, per qualsiasi motivo, non lo vorrà, penso a Wittaker, che fra l'altro ha già detto che, secondo lui, io sono un buon match-up per lui, quindi combattiamo e vediamo un po'. Il tempo scorre, se Pereira vorrà davvero tornare verso aprile-maggio e la UFC vorrà accontentarlo, se Adesania non sarà pronto, non vorrà comunque, diciamo, mettersi fretta, perché non mancherà anche poi tanto a quelle tempistiche, chissà davvero che non subentri Wittaker. Ora, chi ha seguito le live lo sa, la mia opinione è che comunque alla fine si farà Adesania per Eira 2, 4 se vogliamo, e che invece Wittaker, a mio avviso, finirà per affrontare Hamza Cimev, chissà magari per un titolo ad interim o con in palio comunque il titolo di number one contender. In ogni caso, io credo che quello sarà il match, non è basato su informazioni né nulla, ma è un'opinione che personalmente mi sono fatto in questi ultimi mesi, anche visto un po' il dubbio sulla questione peso, tornare in Welter, non tornare in Welter, per quanto riguarda Hamza Cimev. Indipendentemente dalla mia opinione, però, adesso si sta un po' chiudendo il varco della possibilità dal punto di vista delle tempistiche per Isvera Adesania, che giustamente non vorrà affrettare i tempi in particolare perché questo match con Pereira, per lui oltre ad essere di fondamentale importanza, è anche un match che si giocherà tantissimo sull'aspetto psicologico e la decisione di accettare un match entro una determinata data non può e non deve essere presa in base alla fretta che potrebbe mettere il campione. Vedremo, le prossime settimane saranno chiave anche perché appunto adesso comunque siamo quasi a febbraio, e un match di questa portata per aprile-maggio va programmato anche con un certo anticipo se possibile. Il fatto che al momento sia anche tornato Jon Jones e la possibilità che possa uscire da UFC 285 col titolo dà anche un'altra opzione per l'International Fight Week, un'opzione di grosso peso, quindi magari non è più necessario avere Paira Adesania per l'International Fight Week anche se sarebbe stata una grande idea ed era il piano principale della UFC. Fatto sta che appunto le prossime settimane saranno veramente fondamentali, in ogni caso si sta evolvendo in maniera molto movimentata almeno dal punto di vista dei messaggi lanciati qua e là il top della divisione pesi medi e personalmente non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere che cosa ne pensate, quale match vorreste per la prima difesa titolata di Poatan e ci vediamo nel prossimo video.